Ciao a tutti amici di Artepiana, sono Guido e oggi parliamo di come deve essere preparato un bagno prima di poter andare a posare una resina o il microcemento. Faccio questo video perché mi capita spesso di andare sui cantieri dove ci sono anche altre ditte che stanno magari ristrutturando l'appartamento e in particolar modo dovranno poi preparare il bagno per far sì che noi andiamo a posare il microcemento, la resina o quello che sia. Per cui le domande che mi fanno sono diverse, quindi l'idea che mi è venuta è quella di fare un video nel quale cerco di darti maggiori spiegazioni. È un video un po' più tecnico, però secondo me vale la pena seguirlo, vale la pena vederlo perché comunque se stai pensando di ristrutturare il tuo bagno e mettergli e far posare sopra una resina o un microcemento è probabilmente la cosa migliore che tu possa fare per i prossimi dieci minuti. Prima però, come al solito, ricordati sempre le stesse cose, metti un like a questo video, iscriviti al canale, se vuoi seguici anche su Instagram e su TikTok dove ci trovi abbastanza facilmente. Sempre come Arte Piana, su Instagram è arte underscore piana. Allora, arriviamo un attimino a noi, al punto della faccenda. Allora, la prima cosa che deve essere determinata, che deve essere stabilita prima ancora di iniziare tutto quanto il lavoro è cercare di capire a che altezza vorrò andare a mettere la resina e i rivestimenti. A mezza altezza voglio andare a rivestire soltanto le piastrelle, voglio togliere le piastrelle, voglio andare a rivestire a tutta quanta altezza la parete. Questo qui è il primo step che devi fare perché se decidi di andare a mettere la resina in un bagno e rivestire anche le parti verticali, le pareti verticali, bisogna capire che cosa deve essere fatto e come deve essere preparato. Allora, come sai, le resine e i microcementi possono essere posati direttamente su piastrella, quindi non è necessario andare a togliere le vecchie piastrelle. Però, se tu stai facendo delle tracce, devi far passare, devi rifare l'impianto idraulico del bagno e via dicendo, puoi andare, potresti aver necessità di dover andare a togliere buona parte delle piastrelle o comunque decidere di toglierle tutte. C'è stato un caso una volta di un cliente, in realtà più di un cliente, devo dire la verità, adesso mi sta prendendo in mente, che ha deciso di togliere le piastrelle per guadagnare spazio perché comunque quel centimetro che la piastrella gli toglieva gli faceva comodo per poter andare ad allargare leggermente la dimensione del bagno che in quel caso era un bagno piuttosto piccolino. Per cui, le ragioni per cui uno decide di togliere le piastrelle sono diverse. Va capito se, in base alla decisione che tu hai preso, lasciare le piastrelle sia una cosa saggia o meno. Allora, iniziamo dalla situazione delle piastrelle, cerchiamo di capire quello che deve essere fatto. Per prima cosa, bisogna andare a determinare, bisogna andare a stabilire se le piastrelle possono essere lasciate lì dove stanno o se comunque, anche qualora non volessimo, devono essere tolte. Per fare questo, che cosa andiamo a fare? Andiamo a bussare letteralmente su ogni piastrella e andiamo a sentire il famoso suono che questa ci rimane indietro. Se io ho un suono che mi torna indietro pieno, compatto, allora non ho nessun tipo di problema. Se però, al contrario, questo suono ritorna indietro come un suono vuoto e ci fa capire che dietro la piastrella la colla che la viene attaccata si è deteriorata, si sta invecchiando, si sta distaccando dal massetto, allora a quel punto lì la cosa più saggia è andare a togliere la singola piastrella, se è una sola, o andare a togliere tutte le piastrelle, anche della parete o proprio tutte le piastrelle del bagno, qualora questo problema sia generalizzato. Perché? Perché è vero che tu gli vai a mettere la rete e poi in realtà è vero fino a un certo punto, perché ci sono dei cicli di lavoro che non prevedono neanche che sia messa la rete. Noi con TopCement la rete è prevista sempre, però c'è per esempio un'altra casa che è Materica di Naichi che giustamente ti dice se tu devi andare a fare una parete, una superficie che è sotto i 13 metri quadrati non è necessario andare a mettere la rete. Questo perché? Perché mettere la rete comunque comporta dei costi in più, perché la rete ha uno spessore maggiore, perché la rete comunque sia di porta via più materiale e quindi di conseguenza il prezzo si alza. Essendo Materica un materiale che teoricamente può essere lasciato senza rete perché si compatta fino a 13 metri quadrati, chiaramente potresti non andarla a mettere. Quindi va valutata questa cosa qui. Ora abbiamo deciso che comunque sia le piastrelle suonano a vuoto in 3 o 4 punti. Allora, in quel caso lì sarà sufficiente andare a... ma chiaramente 3 o 4 punti, ma tutte le altre sono messe bene. Allora, in quel caso lì sarà sufficiente andare a togliere quelle 3 o 4 piastrelle dove il suono era a vuoto e andare a rivestirla con una malta cementizia, semplicissima malta cementizia. Dopodiché potrò iniziare a posare la resina vera e propria. Se invece abbiamo stabilito che vanno tolte tutte quante le piastrelle, allora dovrò andare a preparare le pareti per far sì che poi possa andare a posare la resina. Nel caso in cui decidessi di andare a mettere le piastrelle, che cosa dovrà fare la ditta che sta facendo i lavori? Nulla. Semplicemente andrà avanti e farà quello che deve fare. Ci sono stati casi in cui le tracce sono state fatte soltanto nei punti in cui si sapeva che sarebbero passati... sarebbe passato l'impianto e tutto il resto è rimasto tale e quale come era. Questo ha comportato un grande risparmio per il cliente che ha fatto questo lavoro. Perché? Perché ha fatto passare la traccia soltanto dove serviva. Tutto il resto è rimasto con le piastrelle. Poi abbiamo chiuso le piastrelle... scusa, abbiamo chiuso la traccia con un top, cioè un cemento ad asciugatura rapida, del quale parliamo più tardi, e abbiamo rasato tutto quanto e non si è vista la differenza. Per cui, se decidessi di lasciare le piastrelle, la ditta non dovrà fare nessun tipo di preparazione. Sarà cura nostra intervenire sulle piastrelle e prepararle nel modo adeguato. Se invece la ditta toglie le piastrelle per le ragioni che ti ho detto prima o per qualsiasi altra ragione che ci viene in mente, allora in quel caso lì la preparazione è fondamentale. Perché? Perché una volta che sono state tolte le piastrelle, generalmente la superficie sia del pavimento ma sia anche delle pareti non è mai uniforme, non è mai compatta. Che cosa abbiamo detto in tutti i nostri video? Che noi vogliamo, per posare una resina, vogliamo una superficie compatta, uniforme e solida. Se disattendo una delle tre voci, a quel punto lì devo intervenire per far sì che possa poi andare ad applicare il materiale in modo semplice, veloce, senza spreco di materiale perché chiaramente costa molto meno prendere un rasante e rasare la parete che non rasare la parete con la resina e dargli più mani. Le resine costano parecchio. Quindi se dovessi venire a casa tua e mi ritrovassi con una parete che non è compatta, uniforme, solida, ti chiederò senza ombra di dubbio di andare a rasare questa parete. Come può essere rasata la parete? Che posso andare a utilizzare o il Planetop con materiale, magari il Planetop 200 con materiale con rasante a basso spessore molto molto valido o semplicemente posso andare a utilizzare magari anche una colla per piastrelle chiaramente colle di alta qualità un H40 per esempio. Perché? Perché comunque sia una volta che sono andato a rasare tutto quanto questa si asciugata e mi è andata a creare un sottofondo valido per poter poi andare a posare la resina o il microciumento. Ora, se andiamo a leggere le schede tecniche la colla non è che sia proprio indicata però posso assicurarti che non c'è nessuna controindicazione o almeno noi ne abbiamo fatti tantissimi di bagni noi come i nostri colleghi facciamo tantissimi di bagni con una rasatura, con un sottofondo rasato a colla e posso dirti tranquillamente che non abbiamo mai avuto problemi. Se vai a rasare le parete del bagno a calce invece lì cambia il discorso perché la calce non lega moltissimo con la resina o il microciumento per cui se fosse che hai rasato le pareti a calce hai due possibilità o vai a carteggiare le pareti e le rasi come ti ho detto prima o altrimenti bisognerà andare a fare degli interventi di consolidamento del sottofondo in maniera tale da così da poter essere un'ottima base per poi poter andare a posare la resina o il microciumento. discorso diverso è per il pavimento sul pavimento chiaramente la colla per piastrelle non la andiamo ad utilizzare perché lì c'è un calpestio c'è un'usura diversa quindi no alla colla sì però per esempio al planito fast 330 o al limite a un autolivellante penso per esempio all'ultraplan di MAPEI cosa dobbiamo andare a vedere sul pavimento? allora quando hai tolto le piastrelle e magari hai fatto il massetto il massetto una volta che è finito una volta che è asciugato generalmente la superficie non è mai liscia non è mai compatta ma rimane sempre un po' bruzzolosa un po' grezza noi personalmente non amiamo questo tipo di superficie per i motivi che ti ho detto prima per cui in quel caso lì quello che chiediamo è andare a rasare con un autolivellante la superficie per renderla un po' più compatta e omogenea sempre per cercare di andare a risparmiare mani di resina che come sai costano molto di più di un autolivellante quindi se il massetto è stato fatto chiaramente il massetto deve essere asciutto anche su questa cosa qui è importante andare a stabilire un punto fondamentale prima di poter andare a posare la resina o il microcemento i sottofondi devono essere tutti quanti asciutti perché altrimenti l'umidità di risalita va a distaccare sia l'autolivellante nel caso in cui andassimo a mettere l'autolivellante su un sottofondo che non è completamente asciutto ma anche la resina stessa perché se andassimo a mettere una resina con i protettivi che gli andiamo a mettere sopra fa un po' come succede col parquet si gonfia e scoppia il microcemento almeno quello che utilizziamo noi è un po' più traspirante non si gonfia ma sicuramente si aluna e si macchia quindi in ogni caso abbiamo un problema per ovviare a questo discorso qui una volta che è stato fatto il massetto si va si misura l'umidità di controspinta del massetto e come si misura? non si misura appoggiando la mano? si è asciutto? no, non funziona così c'è l'igrometro addirittura ci sarebbe l'igrometro a carburo o l'igrometro a sfera il top è l'igrometro a carburo che ti metti lì rompi il massetto misuri ci ho fatto un video su riguardo riguardo di questa cosa qua nel caso in cui non avessi l'igrometro a carburo puoi comunque andare a misurare l'umidità con l'igrometro a sfera poi se hai qualche dubbio devi passare l'igrometro a carburo nel caso in cui non ci fossero le tempistiche per poter far asciugare il pavimento eventualmente sopra puoi andare a rasare con un tricomponente che fa da barriera vapore quindi blocca l'umidità di risalita arriviamo adesso al piatto doccia che è fondamentale allora se decidessi di fare un piatto doccia walk-in quindi di quelli che sono a filo pavimento che vanno ad entrare direttamente nella doccia dovrà eseguire determinati accorgimenti a riguardo per quello che riguarda l'aspetto tecnico ti ricordo che abbiamo fatto un video che è uscito tre o quattro settimane fa se non ricordo male in cui un tecnico della Keragol spiegava esattamente come deve essere fatto il piatto doccia per poter essere messo ed essere preparato per poter poi essere resinato nel caso in cui andassi a mettere ad appoggiare sopra un piatto doccia il discorso è differente in ogni caso parlando del piatto doccia walk-in la cosa fondamentale è che venga fatta prima di tutto una base di impermeabilizzazione sotto quindi puoi andare a utilizzare un mapelastic puoi andare a utilizzare anche un nanoflex o qualsiasi altro prodotto una cemingwine o qualsiasi altro prodotto o resina impermeabilizzante che va a fare da base sopra questa base qui andiamo a fare il massetto sopra il massetto che chiaramente dovrà essere asciutto poi potrà essere posata o una malta epossilica o eventualmente direttamente la resina o il microcemento è fondamentale però che anche in questo caso vengano fatte le impermeabilizzazioni e che la base del massetto sia asciutta ora per quanto riguarda la base del massetto ci sono proprio delle normative che impongono che il pavimento che il piatto doccia scusa vengano sia rivestito prima con una guaina impermeabilizzante diverso il discorso delle pareti tipo per esempio le pareti della doccia vera e propria perché? perché se andiamo a ad impermeabilizzare una doccia spesso e volentieri bisogna capire che cosa occorre fare per quello che riguarda le pareti sicuramente l'angolo questa parte qui sto cercando di guardare dal monitor sicuramente l'angolo va impermeabilizzato in Italia non è richiesta l'impermeabilizzazione di tutto il resto della parete quindi questa parte qua l'angolo sì perché comunque sia deve fare in modo che l'acqua che si infiltra non vada ad insinuarsi dietro da una parte o dall'altra in Svizzera se fossimo stati in Svizzera invece il discorso era differente in Svizzera ti richiedono proprio che tutte quante le pareti della doccia vengano impermeabilizzate oggettivamente se me lo domandi io ti dico impermeabilizza tutto ma che te frega prendi tanto un secchio di nanofrex un secchio di mape elastiche comunque sia non è che ti basta per fare tranquillamente tutte e tre le pareti della doccia ed il piatto doccia stesso per cui direi di stare tranquillo e sereno e impermeabilizzare tutto però in linea generale se non volessi impermeabilizzare tutte quante le pareti almeno gli angoli quindi questa parte qua e la parte sotto a filo del piatto doccia andrebbe impermeabilizzata facendo andando a fare quello risvolto così facendo hai impermeabilizzato la doccia e non avrai nessun tipo di problema chiaramente sia la doccia che tutti i punti in cui ci sono possibilità di infiltrazione quindi le manopole e da dove escono fuori le manopole per l'acqua calda o fredda la doccia il doccino e quello che sia tornando sempre al discorso del massetto va detta una cosa che è importante è fondamentale anche in questo caso così come facciamo per i rivestimenti occorre andare a sentire se il massetto che è stato fatto abbia asciugato in modo omogeneo dappertutto questo perché perché alcune volte capita che asciughi quasi omogeneamente dappertutto quindi se vai a bussare suona pieno però ci sono delle volte in cui suona vuoto perché in un punto magari il cemento non ha tirato bene si è scollegato ci sono addirittura volte in cui proprio viene via una botta e salta da solo il cemento quindi se questo avviene semplice bisogna andare a riempire sempre con una malta cementizia la parte che è stata fatta saltare quindi si bussa suona a vuoto più o meno una superficie come questa maltello scalpello si fa saltare tutto quello che può saltare dopodiché o lo riempi con una malta epossitica armata con additivata con il quarzo o se no prendi un'altra volta una malta cementizia non autolivellante perché l'autolivellante arriva fino a 2-3 cm di spessore molto probabilmente la parte che tu avrai tolto avrà uno spessore maggiore quindi devi per forza di cosa andare a utilizzare proprio dell'altro massetto o un top cham riempi la zona la rasi dopodiché inoltre che si è asciugata vai a fare tutta quanta la preparazione la rasatura e a quel punto il pavimento è pronto se hai problemi di tempistiche non vuoi andare a fare una barriera vapore un altro materiale che potresti utilizzare per fare un'asciugatura rapida è il top cham che è un prodotto sempre della MAPEI ma ce ne sono in commercio anche di altri tipi ad asciugatura rapida sempre che chi va a posarlo rispetti le dosi consigliate sulla scatatecnica di acqua perché se ti dice che ce ne mette tot acqua per tot chili e tu invece ce ne metti il doppio a quel punto lì annulli la valenza della sciogatura rapida per cui se decidessi di fare questa cosa qui il top cham è uno dei materiali che ti può sicuramente tornare comodo per andare a rivestire per andare a rifare un massetto e tenerlo già asciutto nel giro di 4 o 5 giorni l'ultima cosa è il discorso delle quote fra i pavimenti perché? perché può capitare che il bagno vada con la resina il resto del pavimento magari ci vogliono andare a mettere il parquet come capita spesso perché l'abbinamento il conubbio parquet resina va tanto di moda in questo momento come devi fare? allora devi tenere presente le quote la quota della resina che sono circa 3 mm il parquet arriva anche a 1,5 cm per cui quando andrai a fare la gettata di cemento del massetto ti trovi a ricordare di questa cosa pertanto la parte del bagno dove andrà la resina sarà leggermente più alta rispetto alla parte di casa dove andrà il parquet perché questo gap che rimane viene riempito dal listello di parquet quindi ci teniamo più bassi di un centimetro questa parte qui vado a mettere il listello una volta commesso il listello il listello mi porta a filo tutto quanto il pavimento e io ho tutto quanto sullo stesso piano altra cosa importante sarebbe tra resina e parquet andare a mettere una staffa T o comunque sia un divisorio perché il parquet ha un determinato di movimento la resina ha un altro tipo di movimento quando vanno a cozzare spesso e volentieri la resina potrebbe rompersi o gonfiarsi in questo punto qua andando a mettere una staffa T che è fatta proprio come una T quindi ta ta che entra dentro tra i due materiali quindi vai a creare un giunto questa qui fa sì che separi i due corpi in alternativa possiamo andare a mettere un polimero che non è un silicone ma è un qualcosa di simile a un silicone ma è una sostanza anzitutto non acetica ed è una sostanza gommosa che si mette sempre con una pistola all'interno di un giunto all'interno di uno spessore tra un materiale e l'altro e fa sì che quando si muovono questa qui faccia da cuscinetto il bello del polimero però qual è? che può essere verniciato per cui a quel punto lì tu potresti andare a verniciarlo dello stesso colore della resina e così avrai anche un discorso di uniformità e di continuità del pavimento questo è quello che c'è da sapere nel momento in cui tu dovessi decidere di andarti a fare un bagno in resina e stessi ristrutturando casa se decidi di ristrutturarti in bagno senza fare altri lavori di ristrutturazione probabilmente non toglierai neanche le piastrelle però secondo me è bene sapere almeno questi qui che sono proprio fondamentali per poter ottenere un ottimo risultato per cui se ti è piaciuto questo video metti un like condividilo con i tuoi amici se ti fa piacere a me farebbe piacere ti dico la verità iscriviti al canale seguici su Instagram e noi ci vediamo la prossima volta per un nuovo video ciao ciao